Bella raga benvenuti finalmente in questo nuovo video come al solito in officina di Lavazza Motolab Allora, no allora un cazzo, nell'ultimo video raga abbiamo sfondato tutto, quasi 50.000 like Ne avevamo chiesti tipo 15 in meno, vabbè sti mai fatti così tanti like sul canale Ci siamo chiesti ma perché non stanno andando in tendenza, oh manco a farla apposta Mi scrive Nasca su Instagram e mi chiede, oh ma come cazzo fai a fare 40.000 like a video Vado su YouTube a vedere il video, guardo, sedicesimo in tendenza, ho detto, porco zio va bene, buono figa Oggi forse incrociamo le dita raga perché non ce la facciamo più Io l'ultima volta che ci provo lo dico qua Basta, poi, poi basta Se non riusciamo andrà in giro con la rota dietro da 17 e la rota davanti da enduro Esatto, perché sarà molto probabile Qua come potete vedere c'è uno sbrego di robe Allora, facciamo un recap Chi mi segue su Instagram lo saprà, nell'altro video vi avevo accennato qualcosina Andate a seguirlo sia a lui che a me Esatto, per favore, grazie, è fondamentale Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, attivate le notifiche che è veramente il minimo Mettete like a questo video, questa volta però Vediamo durante il video se avremo voglia di chiedervi dei like Per me è andata male l'unica volta Questa lama raga, mi è sempre stata data da Woody Racing Mi è sempre stata data, è giusto mi è sempre stata Mi è sempre stata, penso di sì, sei te lo scolaro dei due No, ma io non ci vado a scuola, infatti sono qua registrato, dovrei essere a fare lezione Che pezzo di merda Questa lama qua raga, non è quella che avete visto negli altri video Mi è stata data da Woody Racing, l'altra gliel'ho riportata Perché? Qual è il problema? Qual è stato il problema? La posizione dei fori dei raggi Sull'altra lama era leggermente più larga Con questa sono un pochino più stretti Dovremmo riuscire a raggiare e cercare di far stare la pinza tra i raggi e il disco Però vabbè, vedremo dopo, voi incrociate le dita già dall'inizio del video Anche perché se esce il video è perché ci sia riusciti Se non esce, oppure lo faccio uscire anche se non sia riusciti così vedete quante le stemme Nel video di questa uscirà il video che il TM prende fuoco in mezzo al cortile Esatto Tra l'altro il doppio scarico, raga, guardate che cazzo di mina Se non avete visto lo scorso video che ha spaccato YouTube Italia, andate a vederlo Oltre alla lama e al mozzo, direi che possiamo anche spushteare Come potete vedere davanti a noi ci sono un bel po' di pacchi di VM Racing Qua c'è dentro una roba, c'è proprio una mina clamorosa che dal momento in cui è uscita Ho detto, dal momento in cui ho visto che sono uscite queste cose Ho chiamato Matteo e ho detto, ciao Matteo, non è che per caso Vabbè, qua lo sapete raga, c'è l'impianto frenante Che nel dubbio, vabbè, lo facciamo rivedere al volo perché si fosse perso gli altri episodi Questo tubo del freno blu di accossato era all'interno di questa scatola Che però in questo momento è vuota Qui invece abbiamo Sei pronto? Vai Dai C'è dentro, ho sta pinza Da assiale a radiale Ricavatolo al pieno Fatto da VM Racing Sì, veramente bellissimo Anche perché risolve il problema a tutti quelli che hanno Che tra l'altro è lo stesso che avevo sul 125 Perché altrimenti, cioè, per queste forcelle qua è sempre un delirio trovare le cose Pompa radiale, 16x18 Vai accossato Vabbè, serbatoio dell'olio, non dico bocettino Bravo, guarda, ero lì Io te lo giuro, ero lì ad aspettarlo Varie rondelle per fare spessori, eccetera, eccetera Adesivi, questo è quanto Mentre qui abbiamo A parte che è inutile fare tutta sta su spazio Perché l'hanno già visto Sì, infatti, l'hanno già visto tutti Tu veramente Abbiamo la pinza radiale accossato Che è veramente una bestia clamorosa Già fresata Già fresata Come ultima cosa abbiamo la flangia posta disco Da 5 mm di spessore Che poi, oggi, dopo nel video vi spiego tutto Andremo a misurare lo spessore preciso Che ci servirà fra il disco e il mozzo In un po' di minuti vi posso dire che Queste sono le piastre fatte da WM Racing Con il 5 assi La figata di avere un 5 assi È che tu non devi mai spostare il pezzo Dal piano di lavoro della macchina Perché hai tutto il braccio della fresa Che si può girare praticamente in tutte le direzioni La cosa estremamente bella di queste piastre Cos'è? Innanzitutto, mentre ti do toglie le facette Vi dico che queste piastre sono state fresate Per il diametro delle mie forcelle Io ho comunicato a WM Racing, appunto Che montavo le marzocchi da 50 Per cui loro hanno provveduto A fresarmi i diametri precisi Poi, vedete che Quattilio sta svitando Questa vite centrale Ma cosa serve sta vite? Serve per poter estrarre Queste boccoline Che trovate in centro le piastre Banalmente avrete capito Che sono quelle In cui passa il perno Andando a metterla In una posizione O nell'altra Potete decidere L'offset Delle vostre piastre Vorrei farvi vedere Tra l'altro Quanto sono massicce queste cose Non so se rendo l'idea Dopodiché Abbiamo questi fori Per mettere i nostri fine corsa Abbiamo sia questa Che questa Dopodiché Abbiamo i fori qua Che possono essere O filettati O passanti In questo caso Ce li hanno fatti passanti In cui posizionare i razor Altra cosa Che ci tengo a dire Anche perché si sono sbattuti Veramente un tot Per farle Vedete che hanno Mille mila fori Praticamente Sono compatibili Con ogni moto Per cui veramente Tanta tanta roba Grazie mille Comunque davvero a Matteo Di VM Racing Per avermi dato la possibilità Di montare queste piastre Quanto cazzo sono belle Ste robe Buona Quindi adesso Insieme al boss del pop-in Direi che possiamo andare A montarle Smontiamo praticamente Tutto l'avantreno E andiamo a mettere Le piastre nuove Bomba Avantreno smontato Lasciamo tutto qua Perché ovviamente Non ha senso toglierlo Perché poi dovremmo andare A ributtarglielo sopra A tiro qua Si diverte come al solito La mano del boccaglie Ha spaccato un sacco La cosa bella È che voi potete cambiare Da una moto all'altra Tenendo lo stesso avantreno Solo con le boccole Quindi andiamo a togliere Questo perno Per poi andare a metterlo Per poi andare a metterlo In questi boccole qua Let's go Andiamo Comunque tua mamma Mi ha risposto Alla storia del crocifisso Ve l'ho chiesto Perché abestimiamo così tanto Se abbiamo il crocifisso E tua mamma Tipo mi ha risposto Alla storia Mi fa povero Ci siamo Direi che possiamo Togliere il nostro pernino Bamba 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 Qualcuno vuole Delle piastre blu Anodizzate Piastrella tolta Mettiamo anche Un pernello Adesso Va a pressare dentro Anche il cuscinetto Atti Nel mente Io vado a spacchettare Questo pacco Che non vi ho fatto vedere prima Per cui Let's go Tra l'altro Anche il pezzo Che sto per farvi vedere Lo trovate sullo shop Di VM Racing Da poco tempo Allora Qua non c'è più niente Sbammete Avrete capito tutti È un portatarga regolabile Non come quelli Che trovate su Amazon Raga Che sono quelli Che vi ho fatto vedere Anche in passato Sul mio canale Che oggettivamente Costano poco E valgono poco Questo è veramente Un portatarga Fatto con i controcoglioni Supporto delle frecce Che rimane sempre fermo Non come quello Che avevo io Sul 125 Per cui voi potete Regolare la targa Come volete E le frecce Rimarranno montate Per cui ovviamente Sta cosa è molto più comoda Piuttosto che andare A tagliare le parti Che c'erano sotto È in acciaio inox Tagliato al laser Non c'entra assolutamente Niente con i portatarga In alluminio Questo è molto Molto più robusto Comunque È fatto da Luca Fasoli Che è un mio amico Lo trovate sul sito Di VM Racing All'interno del pacco C'è anche il faretto led Che andate a mettere In maniera proprio Easy easy Qua sopra Qui avete il vostro faretto Con il portatarga Che si piega Che ovviamente Io terrò in regola Scherzi a parte Ci tenevo davvero A farvelo vedere Anche perché appunto È un mio amico E per una volta Che dei ragazzi giovani Si ingegnano E fanno delle cose sensate Che valgono Molto di più di cose Che sono cose Molto molto più commerciali Ci tenevo a fargli Questa pubblicità Per cui grazie mille Faso Se volete di portatarga seri Sapete dove trovarli Allora raga Stavamo per montare le piastre In realtà ci siamo accorti Che i cuscinetti Sono fucking sbunnati Per cui abbiamo deciso Di cambiarli Dopo a prendere I cuscinetti nuovi Per ora le piastre Le lasciamo un attimo da parte Quindi adesso Raggiamo il cerchio davanti Parte 3 Terza volta che raggiamo Completo È la quarta Che ci proviamo Che ci proviamo Quindi ragazzi Abbiamo finito di raggiare Non è vero un cazzo Abbiamo solo messo i raggi E i nipless Sti grandissimi Ora vediamo Di tirare il tutto Per centrare il cerchione Dopodiché Dovremmo fare una cosa Abbastanza over power Ovvero Scampanare il mozzo Dalla lama Dato che La pinza Che dobbiamo montare È veramente grossa Quando noi andiamo A calzarla sul disco Ovviamente La pinza tocca nei raggi Fate conto raga Che il disco sta qua Con la flangia Sta leggermente più in fuori Il problema è che L'unica cosa Che si può fare È spostare praticamente Il mozzo Con l'attacco del disco Più verso l'esterno Rispetto a come È messo in origine Oltre a mettere Gli spessori Dobbiamo anche fare in modo Che il mozzo Esca il più possibile Gli smr qua Hanno tipo Un bordo Non scherzo Se vi dico Che è alto così Se no l'opzione Era prendere un mozzo Smr Arrivare a far l'orodizzare Tutto Cioè Veramente che palle Praticamente Questa serie Sul restauro del 300 È diventato un tutorial In ogni video Su come si raggia E tutte le dinamiche Della raggiatura Dei cerchioni Sei pronto bro? Pronto Allora Sono passate un po' di ore Siamo andati a prendere I cuscinetti Nuovi Nel frattempo abbiamo anche mangiato Adesso andiamo a montarli Sul piantone di sterzo E andiamo finalmente A montare l'avantreno Che è Non ne posso più Quindi adesso Attilio Con l'ausilio della pressa Va a mettere dentro il cuscinetto E dopodiché possiamo Completare il tutto Abbiamo messo il cuscinetto nuovo A noi serve L'offset motard Per cui parte cicciotta dietro Rivolta verso la moto Adesso andiamo a stringere le viti Oh raga Che io mi bullizza Qua Che cazzo vai Coglione Te lo giuro Che io urlo un botto Tocca dietro l'antelaio Madonna Oh raga Queste piastre Non è la prima volta Che vengono montate su un TM Ho appena fatto una videochiamata Con Matteo di VM Racing Io raga vi giuro Che TM Cioè è l'unico marchio Porco zio Che fai TM uno diverso dall'altro A caso Praticamente vedete Che questo C'è tipo uno svaso Per le piastre che montano Non è abbastanza grande Per far passare Piastre di VM Cazzo Per cui niente Noi non andiamo a rovinare Le piastre di VM Sti cazzi Diamo una rimatina al telaio Me ne frega un cazzo davvero Togliamo un pochino di materiale Da lì Così almeno basta Poi dovremmo riuscire a montare Se benedette piastre A few moments later Gli abbiamo dato un colpetto Con la mola E ora è perfetto Dobbiamo solo mettere quella sopra E infilare le forcelle Buono Quindi finito di montare questo Vado a togliere L'impianto frenante originale Che tanto non ci serve Tra l'altro Ora Ovviamente La cosa fondamentale Oltre al fatto Della compatibilità Eccetera eccetera La cosa importante Di queste piastre È che hanno un interesse Più largo Rispetto a quelle originali Per cui Ovviamente Il perno sotto Questo prima Entrava a filo di qua E arrivava a filo Di qua Invece in questo caso Noi dovremo Tirare all'interno Il nostro perno Fino a questo punto Per cui qua Purtroppo Il perno dovrà entrare Ma ovviamente C'è raga Qua c'è Questo scarto qui Tutta la parte dentro Ovviamente Sarà presa all'interno Del piedino Qui la boccola Rimarrà a lei E qua invece Dovremmo farla noi Per cui Prenderemo le misure Delle boccole Che ci serviranno E ci faremo andare Gli spessori giusti Da WM Racing Proprio come la flangia Per cui niente Ora vado a togliere L'impianto freddante originale E aspetto a Tilio E few moments later Contato l'avantoreno Finalmente Tanta roba Guardate qua Adesso andiamo a fare La scampanatura Esatto Non ve l'ho ancora detto Dove dove Ah ok Qua dentro Ci sono I due dischi Di Egy Brakes Questo me l'ha rifatto Molto più figo dell'altro Guarda che mina Bello si E questo invece Quello posteriore Che boh Per scrupolo Aveva messo quello vecchio Sti cazzi Me l'ha fatto Per cui Bomba Montiamo la flangia Da 05 Di WM Racing Per scrupolo Poi sicuramente Dovremmo andare a aggiungere Un po' di spessore In realtà Quello che vi dicevamo Era proprio questo Allora Disco montato Con la flangia Vedete che La pinza Tocca proprio sui raggi Più di così Non entra all'interno Per cui dobbiamo Distanziare il tutto Ovvio che potremmo farlo Mettendo un botto Di spessori qua dietro Però scampanandoci Giochiamo comunque Qualche millimetro Per cui guadagniamo Un qualcosa Time lapse Abbiamo centrato il cerchio Sessoriamo un pochino dietro Poi prendiamo La misura totale La mandiamo a WM Così almeno ci faranno La flangia Su misura Momentaneamente Lo montiamo così Con la flangia E qualche rondella dietro Poi mi farà sia le boccole Per il perno Che appunto La flangia Su misura E andremo a montarlo Poi in un prossimo video Zero Ovviamente Abbiamo cantato Vittoria Troppo presto Facciamo l'ultimo tentativo Se non funziona Neanche così Probabilmente La pinza del freno Davvero troppo Troppo larga E dobbiamo Trovare un'altra soluzione Proviamo a togliere La triple bridge Dal black dream Di Attilio Montiamo Se non monta La gava Veramente nel camino Sta roba Proviamo Quindi adesso Andiamo a togliere Di nuovo Tutti gli spessori Vediamo di Ricentrare il tutto Toccano i raggi Nella pinza Io c'è Per sbattervi Alla testa Allora Ragazzi Di Attilio Siamo tipo Sconcertati Veramente Arriviamo alla conclusione Che Sul 1925 Avevo montato Lama XL Mozutm Enduro Originale Gli stessi raggi Che ci sono montati Ora E la triple bridge Esattamente La stessa configurazione Che c'è in questo momento Piccolissimo problema La lama XL Che ho in questo momento Raga È diversa Perché Con XL Esistono diversi tipi di canali Quelli così Con il raggio Dal lato di destra Si collega Col lato di destra Del mozzo Vedete Questo si collega di qua Praticamente Cosa succede Abbiamo Un incrocio Dei raggi Molto vagamente Così Il TM125 Di Ivan Aveva montato Invece un canale Che invece Lavorava al contrario Perciò Basta anche solamente Vedere così La differenza Così È come ce l'aveva Il canale di Ivan Questa distanza Più è stretta Meglio è per noi Per farci stare le pinze Questo era uno dei problemi Per cui abbiamo detto Cambiamo la lama No sti cazzi Perché le produzioni Sono state ferme A causa del covid Un botto di tempo Per cui alla fine Abbiamo raggiato con questo E anche perché Attualmente Non si sa neanche Se sono disponibili L'altra soluzione Che ci è venuta fuori Solo nell'ultima mezz'ora Praticamente È che Misurando L'attacco Dei raggi Del mozzo enduro Siamo circa 78 mm Se noi andiamo a vedere Sulla moto del buon Matteo Nerva Che ha su Il kit motardo originale Del suo TM125 SMR 2015 E andiamo a fare La stessa identica misura Praticamente Ci viene fuori 63 mm Diù di un centimetro Di differenza Tra questo Mozzo E il nostro Che montiamo adesso Quindi ragazzi Dobbiamo provare Un mozzo Di un SMR Ho chiamato Matteo di Wem Racing Il lunedì Quando voi starete guardando Questo video Io probabilmente Starò parlando con Matteo Che a sua volta Avrà parlato Con i suoi vari contatti Speriamo abbiano in giro Un mozzo di un SMR O almeno un mozzo Con le stesse identiche misure Le stesse identiche quote Eccetera eccetera Mi chiamo Ma vado a vedere Probabilmente direte Che è un video Senza contenuti Però ragazzi Vi giuro Che non avete idea Di quello che stiamo passando Per fare questa moto Veramente Ci abbiamo litigato Tutto oggi Abbiamo fatto Almeno 4-5 episodi In cui bestemmiamo Dietro questa cosa Ci stiamo sbattendo Veramente tanto Spero possiate capirlo Anzi Sono convinto Che l'abbiate capito Anche perché Proprio oggi L'avete vissuta Al 100% Le altre volte Magari nei video Per evitare di far passare Gli sbattimenti Non le abbiamo dette Tantissime cose Però veramente Ce la stiamo mettendo tutta Anche le aziende Che stanno lavorando con noi Ce la stanno mettendo tutta Per cui nada Seguitemi su Instagram Vi saprò dire Nei prossimi giorni Bella raga Non ne posso Più